Altra pillola di giornata su Azimut, analizziamo subito il grafico, vi condivido lo schermo, mi raccomando per chi non lo avesse ancora fatto si iscriva al canale e clicchi sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Un mio collega anche molto conosciuto sostiene che Azimut sia un titolo sul quale non bisogna applicare lo stop loss, io ovviamente la penso in maniera diametralmente opposta perché anche se Azimut è un'ottima società, se guardiamo quanto aveva toccato come livello di prezzo nella terza settimana di novembre del 2021 27.22 e poi nella seconda di gennaio 26.73, oggi siamo sotto 14, diciamo che non mettere mai lo stop loss non avrebbe dato dei grandi risultati perché anche se Azimut non farà mai quello che hanno fatto Montepaschi, Saipem e altri titoli, però non credo che sia giusto, soprattutto in un contesto di mercato come questo, pensare che si possa sempre rivedere i propri soldi quando ci sono questi trend, ma andiamo con ordine. Azimut purtroppo oggi ha rotto a ribasso il minimo di periodo e già questo è un primo brutto segnale, era 14.16 toccato lo scorso 29 settembre, se poi allarghiamo il time frame a settimanale vediamo che c'è un altro livello molto importante che purtroppo è stato perso nella seduta odierna relativo all'ultima settimana di ottobre del 2020 13,925, oggi abbiamo fatto un minimo a 13,83, poi sì chiusura a 13,915 ma comunque sotto questo livello. Per domani che cosa possiamo attenderci? Una prosecuzione della fase di correzione fino a 13,54 minimo della quarta settimana di maggio 2020 e poi probabilmente fino a 13,18 minimo della terza e quarta di aprile 2020. Ovviamente tenuto conto che Azimut ha una banda di oscillazione al 5%, domani il titolo può arrivare su questi livelli o poco sopra. L'importante è che chi fa trading, chi compra il titolo per un orizzonte temporale di breve periodo, in questo mercato posizioni sempre di stop loss. Intendo dire domani io stesso proverò un long in controtendenza, io mi augurerò uno spike sul titolo, ovviamente un'accelerazione ribassista molto forte e poi un eventuale rimbalzo contestuale, soprattutto se dovesse avvenire nella prima mezz'ora. Se così non fosse a fine giornata comunque che sia 13,54 o peggio ancora 13,18, non dovesse rimbalzare minimamente, dovesse sospendere e proseguire al ribasso, anche se non mi sento di ipotizzare questa eventualità, però gli stop loss vanno messi sempre. In un rimbalzo è sempre possibile, però un rimbalzo in questa fase non si estenderà oltre questo livello tra 15,60 e 15,66. Quindi mi raccomando, cercate sempre di rispettare le regole che vi date perché, come ho già detto anche nei miei interventi a classe NBC, questo è un mercato dove non si fanno prigionieri. Tra poco caricherò il video che analizzerà l'intero Fuzzimib 30 e i movimenti più interessanti di giornata. Ci vediamo tra poco.